Da qualche tempo sulla stampa e sulla televisione italiana sembra che lo sport nazionale sia quello di sparare a zero su Finmeccanica e soprattutto sul suo presidente Pierfrancesco Guarquellini. Io che in Finmeccanica ho lavorato per molto tempo e conosco l'ingegner Guarquellini da più di 44 anni, ho sentito l'esigenza, o meglio direi il dovere di esporre questa mia visione sulla situazione. Ora, il presidente Guarquellini è stato per molti aspetti assimilato ad uno dei tanti boiardi di Stato che hanno negli ultimi anni depredato la nostra nazione, arricchendosi personalmente e poi andandosene via con liquidazioni d'oro, senza tener presente che tutte le società che sono state affidate alle cure di Guarquellini sono state risanate, sono cresciute e è stata mantenuta, se non aumentata, l'occupazione. Un esempio per tutti, Fincantieri. Un altro elemento che vorrei sottolineare riguarda l'ingegner Marina Grossi, la moglie del presidente, che è stata tanto criticata perché è divenuta l'amministratore delegato di Selex. Ora, io forse posso comprendere una critica sulla forma, perché non si dovrebbe forse nominare la moglie amministratore delegato, ma chi ha conosciuto e chi conosce Marina Grossi sa che lei ha acquisito e ha dimostrato grande competenze e managerialità ben prima di entrare in contatto con Guarquellini. E forse proprio per queste sue capacità fu vista con un occhio amoroso, diciamo. E ha sempre dimostrato un'estrema serietà e correttezza. Ora, io non vorrei che questa sembrasse una difesa d'ufficio di un vecchio collaboratore, ma mi sono proprio sentito l'esigenza di dire queste cose per stabilire la giusta immagine della persona forse unica in Italia che è riuscita a portare e a mantenere una grossa società nazionale a livello di competitività e di conoscenza mondiale.